Alessandro parliamo di sport, parliamo di calcio, sono in tanti felici in Italia in questo momento. Allora la Juventus battendo ieri sera la Sampdoria ha conquistato il nono scudetto consecutivo confermando così un lungo periodo di egemonia calcistica in Italia, ma è stato anche uno scudetto anomalo nell'anno della pandemia. Buongiorno intanto a Marco Franzelli. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Parleremo proprio di questo, no Alessandro? Sì, ma prima ci colleghiamo con la sederai di Torino dove c'è Andrea Tinari, allora anche la festa scudetto nelle strade in qualche modo quest'anno è stata anomala proprio per ovviamente la situazione Covid, è così? Sì certo, buongiorno a voi. Il primo scudetto post-Covic negli stadi senza pubblico e del Covid porta i segni per i festeggiamenti praticamente assenti in città, pochissimi caroselli, fuori dallo stadio qui a Torino un centinaio di tifosi circa, non ci sono state neanche le bancarelle tradizionali venditori abusivi in piazza San Carlo per esempio. Ecco, stiamo vedendo le immagini degli esterni dello stadio, vediamo circa, questa è la città che festeggia lo scudetto, è uno scudetto veramente anomalo. Soltanto due camionette dei carabinieri controllavano piazza San Carlo che in genere è la sede principale dei festeggiamenti. Quindi l'emergenza Covid ha messo in sordina i festeggiamenti, soltanto alcuni tifosi hanno seguito dai pub, spesso nei The Ors al di fuori, ma non c'è stata un'atmosfera di festa e di promiscuità che da un certo punto di vista, seguendo il discorso che facevate voi in studio oggi, è anche un segno di positivo, perché è un segno di estrema responsabilità dei cittadini in questo periodo in cui c'è preoccupazione per i cosiddetti contagi di ritorno. Da notare che la Prefettura non aveva posto alcun divieto, quindi è veramente un segno di responsabilità dei cittadini, dei torinesi e dei tifosi che hanno anticipato le regole con un comportamento virtuoso. Anche la stessa società bianconera, da segnalare, aveva twittato prima della partita, invitando i suoi tifosi a festeggiare restando a casa. Questa è la cronaca a voi. Grazie, grazie. Grazie a Gratinari, naturalmente Torino è una città che come altre del non Italia ha sofferto veramente molto per l'epidemia, quindi non si scherza. Marco, allora questa è una vittoria che è arrivata dopo le incertezze delle ultime giornate, ma la Juventus, spinta da Ronaldo, alla fine ha confermato il suo dominio. Però l'impressione è un po' quella di, non so, come di trovarsi alla fine di un ciclo. È così? Diciamo che il cambiamento di allenatore, l'anno scorso lo scudetto fu vinto dalla Juventus di Allegri e adesso siamo passati a Sarri, in realtà dovrebbe aprire un ciclo. Questo era nelle intenzioni, ed è nelle intenzioni della Juventus. La Juventus non ha vinto la Coppa Italia, ha perso in finale con il Napoli e i calci di rigore. Ha vinto lo scudetto, non uno scudetto consecutivo, che è un record soltanto in Scozia, ma è un campionato differente. Il Celtic ha vinto nove scudetti di seguito, il Bayern Monaco in Germania è a quota 8, ma il vero obiettivo della Juventus con Sarri è la Champions League, che riprenderà fra qualche giorno. E adesso deve rimontare la Juve con il Lione per la Champions. Deve rimontare la partita con il Lione perché all'andata ha perso per 1-0 e quindi non deve subire gol, cercare di non subire gol per non complicarsi la vita. C'è un problema che è venuto fuori proprio nella festa dello scudetto ieri sera, cioè l'infortunio a Dybala, che con Ronaldo è stato il giocatore chiave di questa stagione. Fra mille problemi che la squadra ha avuto, Dybala è stato un punto fermo. Un infortunio muscolare oggi sarà sottoposto alle visite, vedremo in che condizioni sarà e un'eventuale assenza di Dybala nella partita contro il Lione sarebbe un'assenza molto pesante. Marco, è stato lo scudetto più lungo, nell'anno più difficile. Prima di chiudere, velocemente, l'allenatore Sarri resterà anche il prossimo anno? La Juventus lo ha confermato, lo ha confermato parlando in televisione ufficialmente, ma è chiaro che secondo me molto dipenderà da come andrà la Champions League. Ricordiamo che la Juventus è arrivata due volte in finale con Allegri contro il Real Madrid e contro il Barcellona e quindi questo si aspettano. Grazie Marco, grazie a voi. Grazie, grazie Marco Fratelli. Adesso la TG...